Io una riforma chiederei di fare, la riforma molto semplice che penso che possa trovare vasto accordo nei cittadini è che se un deputato, se un parlamentare, se un consigliere regionale vuol cambiare partito, se ne va, perché è vero che c'è il vincolo di mandato, che non c'è il vincolo di mandato e quindi sul singolo provvedimento per carità ogni deputato e ogni senatore è libero di esprimersi come crede, ma se cambia partito, quello che viene tradito è il vincolo con l'elettore, perché se io ho votato una persona, non so Danna o chi per esso, quelle persone, e questa persona cambia direttamente partito, sta tradendo i suoi elettori.